Finalmente impassibili follower, ho deciso di spiegarvi come fare i big money sfruttando qualsiasi trucco di YouTube. Prendete carta e penna, che si parte! Inutile prendersi in giro, non posso certo essere io a spiegarvi come fare i soldi su YouTube, visto che manco ho il canale monetizzabile, avendo solo poco meno di 600 iscritti al momento. Quello che però posso fare è l'esatto contrario, e cioè dirvi cosa non dovete fare per rendere il vostro canale appetibile. Su questo fidatevi che sono cose reali perché ho analizzato in lungo e largo le statistiche del mio canale, anche con l'aiuto di amici social media manager che a loro volta mi sfruttano per affinare il funzionamento dell'algoritmo del tubo. A dire il vero c'è pure un mio amico che mi dice di smetterla di essere serio e fare il coglionazzo che nella vita reale mi viene particolarmente bene, ma questo magari lo lascio per il finale. Adesso passiamo alla sostanza del video. Per prima cosa voglio parlarvi del mio canale, un canale attivo dal 2007, ma che fino al 2019 conteneva solo i miei video blog di Biaggio. Ammettiamolo, fatti per gli amici e parenti in cui si notano qualità e doti pessime. Fino a lì avevo una cinquantina di iscritti, poi nel 2020 mi ha portato in Giappone dove facevo diari di vita e ho guadagnato altri 50 iscritti. Poi nell'ultimo anno, aprendo il canale che state guardando, i 500 restanti. Ho degli indici molto interessanti per YouTube, come un ritorno medio superiore al 6% dalle impressioni, con punte anche di 15% su alcuni video, ho spettatori di ritorno superiori alla media segnalatemi da YouTube, e lo stesso per gli iscritti. A proposito di iscritti, l'età preponderante tra i 18 e i 35, con un bel 70% circa. Non prendetevela quindi se provo a fare il giovine, anche se non lo sono più. Ma quindi posso lamentarmi dei risultati? No, non ho nulla da lamentarmi. Il canale è in crescita e soprattutto vario, ma diversi dati mi dicono che è anche in declino su certe tipologie di video che faccio e che altri più grossi hanno, tra virgolette, copiato. Insomma, se fosse il mio lavoro non ci sarebbe da esserne così contenti. Avendo tirato in ballo il lavoro, passo ad un mito che voglio stroncare. Essere uno YouTuber non è un lavoro. O meglio, è un lavoro per quei taluni che riescono a mantenersi facendolo, ma non è un lavoro per le migliaia di altri che vorrebbero lo fosse e che non ce la fanno. Poi una cosa molto semplice, voi tra dieci anni quanti YouTuber che guardate e ora continuerete a guardare, ma saranno ancora lì a fare YouTuber? O peggio, guarderemo ancora YouTube anziché passare a TikTok? Paura! Se notate, poi nel mercato italiano tutti o quasi vendono prodotti o hanno Patreon per aumentare gli ingressi e usano la piattaforma solo per visibilità e rilanciare altre loro attività. Quindi impegnatevi al massimo nel video con il vostro canale, ma prendetelo come hobby, almeno inizialmente. Finita la predica, passiamo a cosa non fare nel proprio canale per piacere all'algoritmo di YouTube. Prima di tutto dovete avere un canale monotematico il cui tema è chiaro fin dal nome. Se parlate di ragni, per esempio, parlate solo di quello e l'algoritmo sovrano farà il resto. Non usate inquadrature statiche come voi che parlate, intervallatele con altro perché annoiano lo spettatore che smette di guardare l'algoritmo vuole che voi guardiate lo schermo. Quindi immagini dinamiche, soprattutto scandite bene le parole, ma siate rapidi. Sempre per una questione di ritmo che non annoi. Non inserite immagini o musiche coperte da copyright. Nel primo caso l'algoritmo non blocca il video. Vedrete comunque che avrà una resa, come video consigliato, inferiore agli altri e quello è un dato importantissimo da ampliare. Riguardo le musiche, lo sapete benissimo che blocca tutto, quindi occhio che si rischiano anche dei cartellini gialli e sono gravissimi, che le live sono ottime per creare una community, ma al tempo stesso hanno visioni molto inferiori sul lungo periodo, sebbene più approfondite di certi video. Come avete potuto notare, a parte le musiche, tutto il resto è esattamente quello che faccio io consapevolmente, perché a me piace così e chissene delle visual. Due parole su cosa fare per piacere l'algoritmo le devo però dire. Una è palesemente quella di essere polarizzati, intransigenti e categorici con le affermazioni, magari che vadano contro corrente e che dicano che voi siete voi e chi gli altri non capiscono un tubo. Questo perché porta tantissime visual e commenti, poco importa i dislike, sono comunque interazioni per l'algoritmo e se poi chi se la prende commenta è anche meglio. Ovviamente non potete mettervi tutti contro, tenete sempre un rapporto like e dislike superiore all'80%, meglio se 90%. Io col video di Creators ho fatto danni perché ho un rapporto inferiore al 60%, ma sono andato a toccare l'anima dei complottisti. Con quello di fondazione sono rimasto invece sopra il 90% ed è tanto, visto anche i numeri dei commenti. Altra cosa su cui puntare, il fare ridere con cose semplici, nulla di elaborato, nessuno vuole sentirvi parlare di geopolitica, dai su, non sembra, ma pure i titoli che scegliete devono rispettare certi criteri di trend e soprattutto devono essere a tira clic. Una bella immagine strana e con facce sorprese fa tanto. Ultimo consiglio, il mercato di YouTube italiano è minuscolo, quasi impercettibile per l'algoritmo. Quindi se sapete l'inglese o lo spagnolo parlate in quelle lingue, non in italiano. Il mercato vi darà incredibilmente più risconto e potete fare veramente bei numeri che qui in Italia ci sogniamo. Dimenticavo, dovete sempre avere qualcosa di sensato e di concreto da dire. Voglio poi ringraziare le diverse persone che nei vari commenti dei vari video mi incoraggiano, mi dicono bravo, grande, continua così. Non capisco perché è così poche visual e simili. Ora avete capito perché non sono famoso e non lo diventerò probabilmente. Non piaccio al grande algoritmo. Comunque quelli sono i migliori messaggi che un creatore di contenuti possa ricevere e che fanno bene, considerando che io impego diverse ore per creare ogni singolo video. Tanto per farvi capire, ci vogliono almeno due ore per informarsi e scrivere il testo, almeno un'ora per filmare e preparare l'area di registrazione, almeno altre due ore per montare correttamente i video e un'ora circa per caricare il video, mettere i tag e tutte le altre cose che YouTube gradisce. Quindi servono all'incirca dalle 5 alle 6 ore per un video dagli 8 ai 10 minuti, come quelli delle anticipazioni. Poi magari io sono puntiglioso e preciso, però da sempre se devo fare una cosa o la faccio meglio che posso o tanto vale che non la faccia. Come dicevo, io sono fiero dei risultati raggiunti in questo anno, anche se mi aspettavo di avere qualche cosina in più, ma in fondo ero solo io che speravo di riuscire a piegare l'algoritmo alla mia volontà. Quindi peggio di Davide contro Golia. Voi mettete come sempre un bel mi piace, iscrivetevi, attivate la campanellina e fatemi sapere cosa ne pensate di YouTube e quanto tempo lo usate ogni giorno, magari guardando cosa. Io per il futuro spero di poter riprendere con le live spostandole la domenica sera verso le 22. So che è una pessima serata, ma fra settimana sono stanco e venerdì sera c'è il casolino, sun. Infine penso di passare a un video a settimana e non più due, al massimo due solo per le anticipazioni, perché con il lavoro ho sempre meno tempo. Magari un giorno vi parlerò anche del mio lavoro che magari vi incuriosisce. Potrei aggiungere tanto altro, ma per questa volta mi fermo qui, tenendo altri spunti che nasceranno eventualmente dai commenti per un prossimo video. Grazie di essere arrivati fin qui MT Ayers e alla prossima. Ciao!